Padre Nazario Vasciarelli, uno dei primi impegni ufficiali a un certo livello, con l'organizzazione della Via Crucis di venerdì prossimo. La parrocchia del Sacro Core si sta impegnando per un percorso anche sociale. Partirete dal carcere. Perché questa scelta? Innanzitutto per rispettare anche quello che Papa Francesco sta dicendo nel suo pontificato, partire dalle periferie. Abbiamo già avuto una prima esperienza con il presepe vivente che abbiamo organizzato nella nostra parrocchia. E quindi siamo partiti proprio dall'idea del Papa che è andato a Lampedusa. Abbiamo messo tra le tante scene una barca con delle reti e quindi richiamando questo impegno del Papa verso i migranti, verso gli itineranti. E poi abbiamo voluto centrare anche il programma di Quaresima proprio sull'attenzione agli ultimi, ai poveri, alle famiglie bisognose, anche con un programma attento della Caritas. E adesso questo momento di preghiera, il pio esercizio della Via Crucis, che accende un riflettore proprio sulla sofferenza dei carcerati, che sono benvoluti da Nostro Signore, al di là dei loro errori, nessuno di noi si fa giudice per l'amor di Dio. Ecco, e questo ci ha fatto iniziare, ci farà iniziare la Via Crucis proprio dal nostro carcere di Sene, dove ogni venerdì uno dei nostri padri, Padre Camillo, va a prestare il suo servizio, la sua presenza. Padre Nazario, sappiamo che la parrocchia del Sacrocore è un tradizionale punto di riferimento per la città di Isernia, organizza tante cose per i bambini, anche per i più grandi. Ecco, lei da poco che è Isernia, che cosa sta organizzando? Che novità ha portato? A dire la verità, io mi sono immesso nella scia di quello che hanno fatto i miei predecessori, e hanno fatto molto bene, devo dire. Però devo dire che Isernia ci vuole particolarmente bene, anche nel ricordo, credo soprattutto, di due grandi sacerdoti, senza nulla togliere agli altri. E parlo soprattutto di Padre Giacinto, tutto quello che ha fatto per la città di Isernia, e l'ultimo, Padre Luigi Marro, che durante i suoi 28 anni ha dato anche un'anima a questa parrocchia. Io che cosa sto facendo? Ho delle priorità, me le sono date all'inizio del mio ministero, qui di parroco, la prima volta che sono parroco, ho sempre fatto altro, ho lavorato molto nel mondo giovanile, nel mondo della ricerca su Padre Pio, e le mie priorità sono e il mondo giovanile, e il mondo della Caritas, cioè questa attenzione alle famiglie bisognose. Oggi abbiamo diversi problemi, e quindi una delle mie priorità è saper stendere la mano.